Il riferimento al servizio edito da TV City, dal titolo Piano di comunicazione anti-Covid, così il comune editore del Greco spende 20.000 euro, pubblicato lo scorso 11 gennaio 2021, ci perviene la seguente richiesta di rettifica da parte della Ramacando Animation SRLS, che di seguito leggiamo testualmente. Con riferimento al servizio giornalistico posto in onda sul vostro sito internet tvcity.it, nonché sulla medesima pagina Facebook in data 11 gennaio 2021 dal titolo Piano di comunicazione anti-Covid della durata di 10 minuti, desidero fornire alcune fondamentali precisazioni in quanto i fatti riportati nel servizio non corrispondono alla realtà. Con riferimento all'incarico di realizzazione di una campagna di comunicazione anti-Covid affidato dal comune editore del Greco alla ditta creati di Luigi del Sorbo, con determina numero 2704 del 24 12 2020, per un valore di circa 20.000 euro, si fa presente che, a differenza di quanto il vostro servizio lascia intendere, la Ramacando Animation SRLS si è limitata a svolgere, su incarico della ditta affidataria del servizio, esclusivamente un'attività di distribuzione di locandine e mascherine presso le attività commerciali di Torre del Greco, fornite dalla ditta affidataria nel periodo dicembre-gennaio 2021 per un corrispettivo di euro 1.100. Alcuna altra attività facente parte dell'ampio oggetto del servizio affidato per una spesa di euro 15.680 più IVA, stampa di manifesti 70% e locandine, fornitura di brochure per contrasto-diffusione Covid, stampa ed affissioni di manifesti 6x3, acquisto di spazi su giornali a diffusione locale e regionale, per pubblicazioni, creazione di pagina dedicata su Facebook, realizzazione video da mandare in onda su emittente televisiva o realizzazioni video misure anti-Covid, è stata mai svolta, affidata o retribuita la società Aramakando Animation SRLS. Pertanto alcun coinvolgimento critica può attribuirsi alla Aramakando Animation in ordine alla realizzazione di tale campagna di comunicazione, restandone estranea, se non per la limitata attività di affissione di locandine correttamente avvenuta, ribadendosi che non è stata né diretta destinataria di fondi pubblici, né ha svolto alcuna attività comunicativa o di informazione istituzionale per conto del Comune di Torre del Greco.